Ancora oggi tutti i giornali portano in prima pagina i fattacci di Roma, dei black blocs, che sono gli unici che hanno riuscito a raggiungere il risultato che si parlasse di loro, facendo passare in secondo piano la vera manifestazione e le ragioni della gente, che come Lucio, che ho intervistato in rappresentanza di tutti, perché lo ritengo un appartitico, anche se il capo del Movimento 5 Stelle di Arezzo, noi convenzionali usiamo il capo, io so che voi non avete né capo né coda. Allora tu eri a Roma, quindi in prima persona raccontaci perché i black blocs hanno sopraffatto i manifestanti normali. Allora io ovviamente do quelle che sono mie opinioni proprio perché ho vissuto la faccenda. Quello a cui sono stato presente è stato uno scenario che si era ripetuto anche un po' quando ci fu la manifestazione contro il decreto Gelmini in sé per sé, quindi uno scenario che a mio avviso poteva essere preventivato. Vi racconto una scena clou nella quale mi sono trovato e che può essere potenzialmente proprio la base di tutto questo ragionamento. A un certo punto nella strada lungo i fori imperiali io mi sono ritrovato su un muretto abbastanza alto, quindi a riguardare la situazione dall'alto insieme ad alcuni amici. Lì si vedeva proprio palesemente che il cordone del corteo era smezzato in due frange. Tra queste due frange, isolati da tutto il resto, c'era la parte dei black blocs. Quindi nelle potenzialità c'era la possibilità che la polizia intervenisse. Non li puoi allestare perché ovviamente non sono in fragranza di reato, però sai che hanno già dato fuoco a due macchine anche se non sono stati loro direttamente perché non lo sai, però sai quello che potrebbero fare proprio perché la manifestazione in sé per sé è adombrata, spesso e volentieri da quelle che sono le iniziative dei black blocs. Quindi lì ecco la polizia poteva intervenire e isolarli da tutto il resto. Non è stato fatto, quello che mi domando io è perché non è stato fatto. Mi vengono in mente le strumentalizzazioni come succede spesso e volentieri in manifestazioni del genere proprio perché se prendiamo esempio quello che è successo davvero in altri posti in Europa, nonché negli Stati Uniti, gli indignatos si sono mossi in tutto il mondo. Ci sono black blocs in tutto il mondo, non ci sono solamente in Italia, solamente che in Italia è successo questo rispetto agli altri posti. Cioè in Italia riescono a infiltrarsi. Quindi la colpa è o dei servizi che non sanno preventivamente bloccare, oppure delle leggi che sai in Inghilterra ci sono altre leggi, io ti posso impedire di andare a una manifestazione. Direttamente. Perché ti arresto prima, perché come noi abbiamo i DASPO per il calcio, loro ce li hanno anche per la politica. Quello che io contesto è questo, politicamente in Italia. Quando ho visto prendere fuoco quel mezzo dei carabinieri e ho visto uscire quel carabiniere, mi ha ricordato il fattaccio di Carlo Giuliani a Genova, quando quel carabiniere sparò a Carlo Giuliani. Ora, con la morte si cancella tutto, ma Carlo Giuliani alla fine era uno che voleva ammazzare un carabiniere. Cioè, per me. E a me quello che dà noia, che gli fu intitolata, e per fortuna credo che gliel'abbiano tolta, una stanza, una sala di Montecitorio. Non solo, ma la mamma di Carlo Giuliani, brava donna che purtroppo ha perso un figlio, ma solo per il fatto di essere la mamma di Carlo Giuliani, è stata eletta in Parlamento. Allora, secondo me, c'è qualcosa da rivedere nelle leggi, nelle modalità? Dico male oppure sono un fascista? No, al di là del fascista, in sé per sé, trovo che sia un ottimo ragionamento, proprio perché porta avanti quelle che sono poi dopo le situazioni che si concretizzano oggi. E sono situazioni che, a mio avviso, possono preventivamente essere risolte. Ma è inutile dare i mezzi alla polizia per fagnene bruciare? Cioè, i mezzi vanno dati preventivi? Ci sono strumentalizzazioni troppo grandi, troppo pesanti. Anche il fatto stesso che le persone... Io porto un altro esempio, è mia madre, che voleva partecipare alla manifestazione, ha avuto inizialmente un po' di paura che succedesse qualcosa, non ha partecipato. Sicuramente non parteciperà alla prossima. Quindi è anche un modo di dissuadere le persone alla partecipazione a una manifestazione. Perché ho detto che gli unici che ha avuto sono stati i black blocs. Esattamente. Perché alla fine è una settimana che si parla di... E non si è parlato di... Perché tutte quelle persone erano lì a manifestare. Che appoggio anch'io, tra l'altro. Allora, siccome voi siete un po' fascisti, voi, grillini, questa è un'ansa di stamattina, che dice Grillo fa perdere la sinistra. Vittoria al fotofinish di Michele Iorio del PDL alle regionali del Molise. Determinante è stato il consenso ottenuto dal Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, che ha sottratto preferenze al centro-sinistra facendolo andare sotto. Questa delanza è una valutazione molto personale, perché praticamente dà per scontato che voi, essendo di sinistra, avete sottratto i voti. Il problema è quello, perché appunto si parla... Sono due le parole che mi hanno colpito. Consenso e sottratto. Di fatto non abbiamo sottratto, abbiamo, perché comunque mi riconosco nel Movimento... Avete guadagnato dei voti, Casano. Non abbiamo sottratto, abbiamo guadagnato dei voti. Il fatto che li abbiamo guadagnati ci viene ovviamente sottolineato dalla parola consenso. Cioè dalla possibilità che ha un nuovo movimento, come quello nato dal basso, di Beppe Grillo, ma di fatto che siamo noi cittadini attivi, torno a ripetere, non c'è nessun leader di partito, che ha la possibilità di inserirsi in una situazione magari come quella del Molise, in cui vengono spese parole un po' a caso dal mio punto di vista, nonostante si parli di Anza. Di fatto però non è così, perché abbiamo guadagnato di due, piuttosto che sottrarre. Bravo Lucio, mi piaci come al solito. E io quando c'è da sapere qualcosa di politico, senza schieramenti particolarmente faziosi, vengo da te. Volentieri. Buon lavoro. Io ti accetto altrettanto.